Qual è l'identikit del prossimo Presidente della Repubblica? Indipendente. Simpatico. Giovane, dinamico, qualcuno che ha parte esperienza e parte ancora la deve fare insieme all'Italia. Il Presidente della Repubblica non deve essere giovane, non deve essere neanche un giovanile e tantomeno un giovanilista. Garante della Costituzione. Il Parlamento vuole un Presidente della Repubblica che non sciolga le camere, Renzi vuole un Presidente della Repubblica di cui non si conosca la voce e che possa certificare il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica Berlusconi vuole un Presidente politico, non tecnico, che possa essere garante del patto del Nazareno. Deve essere un uomo che riapre un rapporto emotivo, umano, con i cittadini. Insomma, un pertini del terzo millennio. Che ne pensa di una donna al Quirinale? Una volta Giuliano Amato disse che ci vorrebbe una donna al Quirinale, le reazioni furono talmente scomposte che lui rispose mica ho detto un coleottero, ho detto una donna. Il prossimo Presidente della Repubblica, secondo me, potrebbe essere donna. Donna con quelle capacità che, scusate, ma solo le donne hanno, che sono un po' più preparate degli uomini. Gli uomini non hanno dato prova di saggezza. Quali sono le sfide che dovrà affrontare il nuovo Presidente? Avete un'ora e venti perché avrei una lista gigante. Speriamo non si trovi a dover affrontare nuove elezioni. Trascinare l'Italia in un rinnovamento completo, quindi svecchiarla. Ruolo importante dell'Italia in politica estera. Più coraggioso è mostrare più anche le palle dell'Italia.